Allora ragazzi, buongiorno e bentornati su Syngear, il canale dei appassionati di simulatori di guida. Faccio questo video, che non è un onboard, per mostrare, come mi è stato chiesto da alcuni utenti, alcune caratteristiche del mio simulatore. Sono caratteristiche di cui non vado fiero, perché vi mostreranno il mio simulatore alla luce del giorno, quindi vedrete che è molto più spartano di ciò che sembra nei video, però me l'avete chiesto e io vi accontento. Mi è stato chiesto di mostrare quella sorta di button box, che il mio inglese fa schifo, che vedete alla mia sinistra e come vedete altro non è che un telefonino, ok? Idem quella di sinistra. Poi sotto ho questo che altro non è che un moltiplicatore di USB, che io uso anche per accendere una lucina che ogni tanto mi è comoda per guardare in basso e che avendo questi led azzurri sta anche piuttosto bene nei filmati. Dopodiché ho un tablet di vecchia generazione e tutti funzionano o con SIM HUB o con SIM dashboard, sono collegati via wifi e poi ho contornato le parti di legno della mia scrivania con del polipropilene, polipropilene che ho messo anche sopra per dare una sensazione di ombra, di abitacolo ai video. Diciamo, ecco, questi sono più che altro per le riprese, perché ho visto che senza avevo troppi riflessi. Tant'è che alcuni video li vedete fatti meglio, altri fatti bene, perché sto cercando di capire se la luce, diciamo che mi entra nella camera, può essere deleteria, in quanto mi schiarisce troppo l'immagine, oppure positiva, in quanto permette di vedere un po' chiaro anche il volante. Di cosa sono fatti questi materiali qua? Questo materiale che vedete, altro non è che del polipropilene come questo. Ce n'è da 2 mm di spessore in commercio o da 1 mm. 1 mm viene usato, lo uso diciamo per le parti che non hanno nessun tipo di portanza, perché è veramente leggero, mentre con 2 mm diventa molto più solido e ci ho fatto quella sorta di cruscotto. Sempre con quelle da 1 mm invece, vedete, ci tolgo le ombre, io se mi giro non vedo il parquet che ho per terra, ma vedo nero, e vedendo nero poi nel video viene piuttosto bene. Il tutto è stato condito con un adesivo, diciamo di quelli da wrapping, versione a carbonio, in modo tale che dà una sorta di idea di cruscotto. Ecco, come vedete è tutto molto spartano. Poi ci ho messo degli agganci da zaino e queste, che sono le cinture che fanno tanta scena e che a poco servono. Bene, spero di aver risposto a tutte le domande che alcuni di voi mi hanno fatto. Nel caso, fatemene altri. Bello il mio padellone attaccato al G29 e che qualcuno mi ha fatto notare stonare all'interno di questa struttura. Io comprendo le critiche, le accetto e le approvo e mi piacciono. Anzi, mi piace quando comunque qualcuno mi fa un'osservazione, perché ho modo poi di dire la mia ma anche di dargli ragione perché effettivamente un bel volantino qua ci starebbe bene, però devo dire che anche il G29 per un divertimento diciamo basico fa il suo porco lavoro. Bene, grazie a tutti e alla prossima. Ciao!